Il castello e la cattedrale come punte di diamante, ma un patrimonio culturale che abbraccia tutta la città e la rende furibili al turista non solo nei mesi estivi. Anzi, proprio la primavera e l'inizio dell'autunno sono i momenti più gettonati per visitare Trani e le sue bellezze. Lo ribadisce il sindaco Amedeo Bottaro in occasione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. La vetrina per Antonomasia per catalizzare l'attenzione di turisti, non solo quelli che scelgono il mare, ma anche chi punta sugli attrattori culturali, con Trani che prosegue un obiettivo importante, mettere in rete le sue bellezze. Voi pensate a Palazzo Beltrani, che è già di per sé un contenitore culturale. Abbiamo cercato di affidare la gestione ai privati in modo tale, con regolare bando, in modo tale da chiaramente valorizzarlo sempre di più e renderlo appunto un attrattore culturale funzionante, soprattutto nell'ottica chiaramente dello sviluppo turistico. La stessa cosa l'abbiamo fatta con il monastero di Colonna, che sarà sede di un museo archeologico, però anche lì diventa fondamentale la gestione, anche lì abbiamo appena giudicato a un privato, per cui si sta attrezzando per lo start-up, per aprire quindi anche questo secondo contenitore culturale importantissimo come un museo archeologico. Abbiamo già il gran lavoro fatto sul territorio dalla Fondazione Seca, penso in questo senso al polo museale, nel senso che comprende, lo ricordo a tutti, il museo della macchina da scrivere, che rappresenta un unicum, non chiaramente per la regione Puglia, ma addirittura per l'Italia intera, associato con il museo sempre gestito dalla Fondazione Seca di Ocesano e in più il museo ebraico nella vecchia sinagoga di Sant'Anna. La grande idea è di mettere tutti questi contenitori culturali in rete tra di loro, insieme al castello, alla cattedrale e a alcune chiese veramente importanti della città, in modo da creare quella che è un'offerta turistica importante per il turista che oggi viene a Trani per visitare la cattedrale e per andare via. Ma invece stiamo preparando, stiamo sottoponendo un'offerta turistica molto più strutturata e, devo dire, quindi molto più allettante.